Musica Eccoci qui in cucina, il Cucinando con MD, chi c'è in cucina? Chefedio Buongiorno, buongiorno, buongiorno Chefedio, c'è da stamattina, prepari, riprepari Sì, perché mi sto preparando già, vi sto preparando per il cenone di Natale Ah ok, per le festività Tutti piatti inerenti alle festività, come abbiamo fatto già in questi giorni Vedo delle lenticchie, sono bollire Se bollire, guarda, lenticchie aglio e alloro Allora, quindi aglio e alloro, ci vuole l'alloro Sì, per profumarle Ma è troppo intenso, ci piace? Ma una fogliolina, guarda, basta Lenticchie rosse secche è la scelta di Chefedio Perché le lenticchie ci sono di vari tipi, Chefedio, vero? Sì, io prefero quelle rosse, ma la vedo un colore più brillante e poi sono più saporite Mi piacciono quelle che fanno la cremina Queste sono, guarda, ti faccio vedere l'anteprima Anteprima? Guarda che cremina, guarda, guarda che cremina, guarda La vedi, la vedi Pasquale, la cremina Questa è proprio tipica per i bambini, i piccoli piccoli Brava, brava, brava Allora, che cosa c'è in questa? Dimmi È un piatto o per l'utilizzo dei piatti O per il 31 O per il 31 proprio Rigorosi Andiamo per il 31 Cosa c'è ancora nella Yellow Bag MD Quando si parla di lenticchie Il 31 Si parla Si parla anche di Zampone, zampone Zampone Lo zampone, lo zampone Zampone, eccolo qua Vediamo Com'è bello, com'è bello, guarda Anche se in realtà è un piatto che io preparo però non mangio Che nessuno mangia, che nessuno mangia Lì, lì in pera musta Abbiamo i crostini ancora I crostini che? Se ci fai a casa sono aperti perché qualcuno ha già appizzicato prima Vai Albume d'uovo E poi abbiamo l'albume d'uovo Vedi? Semplicissimo Vedo delle polpettine Vediamo la ricetta che prepareremo oggi Non ancora no, perché non la puoi svelare la ricetta? Non la svelare ancora Va bene, va bene, ok Sveliamo questa cosa Ti faccio vedere subito Ha deciso così Vediamo un attimino cosa dice Shefferio Guarda, e incominciamo noi Allora, a cosa serve? La ricetta, sì, no? Io non ho ricetta Sì, la ricetta, vale Ok, vediamo la ricetta Io stavo in attesa che uscissi Ah, un zampone sul serio Un zampone sul serio Un zampone Brava, brava, brava Lenticchie rosse, albume, pane grattugiato, crostini di pane, aglio, olio di semi, olio evo, sale e febri Non capivo cosa stavamo aspettando Allora, semplicissimo Vi aspettavo questo Mary, semplicissimo Il perché di questo piatto Il perché è perché di solito lo zampone rimane sempre O viene cacciato dopo la mezzanotte O alcuni Vabbè, diciamo che la leggenda vuole che tu Prima della mezzanotte Prima della mezzanotte Esatto In realtà a cavallo Tra il meno uno e uno Perché lasci bene l'anno Esatto E ne prendi un uomo ricchissimo Quindi porta prosperità Questo dice Quindi, quindi La storia però Poi si mangia poco Brava dice che se lo mangiano Il due, il tre, il quattro E neanche E invece, guarda Noi quest'anno Già l'anno scorso L'ho fatto al ristorante Le ho proposte sotto forma di polpettine Wow, buono Sì, quindi l'innovazione sul sedio Il piatto antico Ma modernissimo Grazie alla creatività di Chefelli Come si fa? Semplicissimo Aprire lo zampone Non metterlo a bagna maria Ma distruggerlo così com'è E impastarlo Impastarlo e fare semplicemente le polpettine Se vediamo che è un po' unto Un po' grassoso Gli aggiungiamo solamente un po' di pane grattugiato Un po' di formaggio grattugiato Quale formaggio? Ma una grana Una grana A piacimento, esatto Quindi fare delle polpettine Guarda come sono bellissime Ho fatto delle granatine Quindi io prendo questo zampone Lo zampone e lo distrugge E lo distruggo Senza riscaldarlo A freddo A freddo Ci metto solo un po' di parmigiano Giusto? Sì Se vediamo che non ci rende la consistenza Gli aggiungiamo un po' di pane grattugiato Perfetto Guarda Gli facciamo delle granatine Semplicissime Polpettine di zampone Ma è bene Io dentro Gli ho inserito nell'impasto Gli ho inserito anche qualche lenticchia Quindi ho fatto capitare anche qualche lenticchia intera Perfetto Due soluzioni per cuocere Frittura O forno O forno O addirittura bagnomaria Meri Semplicissimo Quindi senza impanarle Lasciarle in frigo Farle riposare Farle rapprendere Un'altra volta il grasso E metterle a bagnomaria Semplicissimo Perfetto Quindi ci sono tre soluzioni di cottura Tra le tre soluzioni Quali preferite? Io preferisco quella più salutare E andiamo d'accordo Che fe Anche io preferisco quella fritta Brava Quella più salutare Quindi olio abbondante Nel tegame Esatto Dall'altro lato La cottura Dall'altro sarà pochissimo Perché in realtà E' sempre cotta Dobbiamo fare solo la crosticia Dall'altro lato Guarda abbiamo cotto Le nostre lenticchie Quindi Aglio Acqua fredda Acqua fredda Aglio Una foglietta di alloro Sale Pepe Un filo d'olio Semplicissime Quelle secche In dieci minuti Un quarto d'ora Cuocerlo Quindi velocissimo Buona questa qualità Questa qualità Io l'ho trovata Ed è buona Perché quando preparo Anche quei dita lì Sai con Le lenticchie Mi piace Che poi il sugo Diventi cremoso Allora guarda Non la lenticchia singola Perché anche C'è chiacchi che predilige Sai La lenticchia che resti singola E non si sbagli Invece a me piace più Bella A pure E infatti A cottura terminata L'abbiamo Mizzato Semplice E abbiamo lasciato anche Qualche grumetto Con un po' di olio Olio a filo L'aggiustiamo Con sale Pepe Ci sembra Quella regola famosa Che tu conosci benissimo Meri Quello che hai Quello che ci metti Quello ci trovi Ma certamente Non posso metterci La maionese Qua all'interno Ma volendo Volendo Non c'è regola A niente Guarda Scoliamo le nostre polpette Un modo per gustarsi Ecco Zampone E Le lenticchie Alla sul serio Abbiamo queste polpette Di lenticchie Alla Facciamo asciugare Lenticchie e zampone Nel ristorante Mangiando sul serio Il 31 con il cenone Le trovate sicuramente Perfetto Guarda Ma tu sei lì Tutte le festività Mangiando sul serio Tranne il 24 Siamo aperti Quindi c'è il 25 C'è il 26 27 28 29 30 31 Il primo E' il primo Esatto E' il 6 E' il 6 E' il 6 3 4 5 6 Quindi solo il 24 Per l'intera giornata Per l'intera giornata Oppure ti dedichi Deciderete di offrire i vostri commensali Perché 31 Le case saranno piene di familiari Piene di famiglie Allora Mary Guarda Lo condiamo Sì Con Una julienne di alloro Quindi resta ancora il profumo Esatto Che serve solo per profumare Guarda quanto è bello Un piatto Un fiore Non è ancora finito Così nobilitato Da Chef Ferio E ci vuole il tempo Pochissimo Davvero Pochissimo Da poter realizzare anche il giorno prima Quindi Il giorno prima prepariamo Naturalmente Le propette E anche la vedutata Di reticola L'anno dopo Le friggiamo solamente Quindi Ci acceleriamo un poco Ci agevoliamo anche un poco Il lavoro Questa qua La lasciamo La lasciamo Poi Il tutto Non ho capito una cosa L'albume dopo ci serve Allora per impanare Esatto Perché siccome già È molto pesante Il zampone Quindi lo zampone Quindi abbiamo Invece di usare Un uovo intero Abbiamo usato solo l'albume Che ci serve Solo per far taccare Il pane grattugiato Io in verità Ho fatto metà pane grattugiato Metà polenta Come ti ho detto Già le altre volte Sì è vero Per dare Quella croccante Inferiore Ci piace proprio Quella crosta Che si realizza Poi attorno Al contenuto In questo caso Zampone Poi Abbiamo ancora La croccantezza Con i crostini Dei crostini A naturale Guarda che possiamo Anche mettere in padella Con un filo d'olio Del rosmarino E un filo Uno spiccio d'aglio E aromatizzarli A nostro piacimento Sai che si sente Un buon profumo Chef Ferio Veramente buono È un'idea innovativa Tanto il menù Di Mangiando sul serio È tipicamente natalizio In questi giorni Quindi avvisiamo anche La tua clientela Avvisiamo anche il pubblico C'è proprio Un menù dedicato All'insegna del Natale Per cui Ecco anche io Sono vestita di rosso Anticipo questo Natale In questo periodo Veramente si può gustare La tradizione A tavola Dallo Chef Ferio Ma con quella marcia In più Con quel sul serio In più Come insegna Tutti i giorni Qui sul serio Allora Mary Chef Ferio Guarda Addirittura Li possiamo servire Hai inserito anche Un po' di olio a crudo Un filo d'olio a crudo Li possiamo servire Anche come finger Come aperitivo Appunto Chef Ferio Quindi augurarci Il buon anno Che verrà Già dall'inizio cena Dall'inizio pasto Quindi Invece di aspettare Alla mezzanotte Noi Ci auguriamo Esatto Ricchezza Prosperità Salute Lavoro Amore Nella tarda serata Quindi già Ci auguriamo tutto ciò Così La giornata sarà piena E colma di auguri Di auguri Chef Ferio Semplicissimo Un piatto da realizzare Un'altra domanda importante Abbiamo detto Che possiamo realizzare Naturalmente il composto Per cui l'impasto di zampone Lenticchie Le stesse lenticchie La veludata Il giorno prima Così riposa Ancora di più Però Le polpettine Come insegni Le possiamo impanare C'è il giorno prima Perfetto E le friggiamo Naturalmente Esatto In quel momento Perché devono essere Rigorosamente calde Ma la velutata In questo caso Ti chiedo La possiamo fare il giorno prima E riscaldarla a bagnomaria Quindi tranquillamente Che deve essere calda La velutata O anche attemperata Perché a te piace Lo shock termico Io preferisco calda Altrimenti da fredda Si la prende dopo Non può piacere a tutti Però a bagnomaria Non fornette a piccola Ma anche Alla mario Alla mario Ok Preferisco al bagnomaria Mi anticipo con i tempi Capito Come fate in confusione Abbiamo già anticipato A cuocere A fare le polpettine Basta così Le friggiamo al momento A bagnomaria Devi stare lì a girare però No guarda Le lasciamo là a bagnare Con una pellicola Esatto Al momento la giriamo E la serviamo Semplicissimo Ascoltiamo Chef Ferio Io lo metto nel microonde Perfetto Però non seguite me Non seguite me Seguite Chef Ferio Grazie Noi ti ritroveremo Io auguro buon anno Con questo piatto Anticipo Il 31 Ok Va bene Buon anno a tutti Buon Natale Un bacio Naturalmente noi ci vediamo Ci vediamo Ci vediamo Una voglia di quante ricette Ancora Grazie Chef Ferio Ci ritroviamo domani con te Un altro piatto dedicato E all'insegna del Natale Buon proseguimento Però adesso io raggiungo Claudia Per i saluti finali Ma quanto è bello questo piatto Complimenti